Cavese Noto si giocherà a porte chiuse, così ha deciso il giudice sportivo che ha sanzionato la società di patron Campitiello per il fumogeno, acceso dai supporters Aquilotti al granillo nel proprio settore ma soprattutto per il fumogeno e i due petardi lanciati sul terreno di gioco. Una sanzione quasi attesa dal club, visto che il Simonetta Lamberti era già a rischio squalifica per la diffida subita dopo la gara con l'Agropoli. Un duro colpo per società e squadra con conseguenze ancora tutte da verificare e se Campitiello già da ieri aveva un diavolo per capello per il danno di immagine che una squalifica avrebbe potuto arrecare al club, Papagni si concentra sulle cose di campo e soprattutto aspetta buone nuove dall'infermeria. Il tecnico è in ansia per Maraucci, uscito malconcio dal granillo proprio nei minuti finali. Il difensore ha accusato un problema al flessore, si teme uno stiramento. Dall'esito degli esami strumentali si sapranno con esattezza danno e tempi di recupero. Che Papagni si augura possano essere particolarmente brevi. In ogni caso Sabatucci e il giovane Manzi sono già pronti per l'uso. Grazie Grazie Grazie